Benvenuti ragazzi in quinta puntata Stavamo dando una mano al nostro cugino qua in Nortumbria Yard Goodfried Halfdansson E stavo ponderando che cazzo fare La mia ponderazione non mi ha portato a nessun risultato degno di nota Nel senso che... Sì ok attacchiamo qua Ma poi? Da un regno di Fife No qui sopra Guardatela in alto Il ghiacchino sta tirando fuori le pallette Vediamo qua Lui sta fatta una sua guerra quindi Verità vera Non ci interessa una ceppa di niente L'importante è non esplodere Abbiamo alcuni problemi con i vassali E infatti si sta risultando in un In un po' di casini qua e là Diciamo Diciamo Questo qua ha ancora sette mesi per cambiare cultura Va buono Va buono Sti 2007 non hanno... Ok ok è giusto È tutto giusto È tutto giusto Bisogna solo capire come andare avanti Una volta finita con la guerra qua Come andare avanti per riuscire a prendere più territori possibile Senza esplodere Senza esplodere Hanno fatto il giro per arrivare qua Quelli là Complimenti Metto vissita 4 Perché se no vissita 3 È una pena che Della metà Siamo a posto Allora Qua la situazione è un po' strana Potrei attaccare qui E prendere Ok far esplodere con solo il galles Non mi dispiacerebbe Quindi Alla prossima cosa sarebbe Magari attaccare il galles Veramente Cos'è la scuola La terra è per ultima Perché È un regno di per sé Mi sembra già abbastanza Tagliamo le spese superflue Che non servono a superflue Conquistato qui Conquistato lì Andiamo a Fife Andiamo a capitale Tanto che loro giocano A fare La guerra là sotto Chi vincerà Se clicco Oh mi fa vedere anche se clicco Le guerre degli altri Che bello Vinceranno i vichinghi Perché hanno Dei soldati che fanno Un male boia 98% What Non me l'aspettavo per niente Chi sono questi Quelli di un Di un Di un Di un coso Eh vedete A cazzeggiare Io entro Non frega niente Io Belivo nei miei generali Allora Allora Avete visto tutti Stavamo Vincendo Nonostante La pace che poi è stata fatta Stavamo comunque Vincendo noi Quindi la prendo come una vittoria Ad ogni modo Ad ogni modo Abbiamo finito Di spostare la cultura Dove ci interessano Bisogna andare avanti Andare avanti A cambiare cultura L'idea di scendere Sempre per non avere Qui che problemi hanno Ah non Metà cultura scozzese Vabbè Buon per loro Avanti a convertire Qua Allora La cosa è questa O spettiamo che muore il figlio O spettiamo che muore questo Va sul figlio Ha più Ha più Demence E quindi Può dare via territori Per farsi un paio di amici Oppure do già via Con lui dei territori In modo Da ripigliare Un sacco di levis Perché così Secondo me abbiamo il debuff Tra l'altro Forse questo qua Anche dovremmo attaccare Mi ricordo che lui è amico Di nuovo di Alba E c'ha tutte le sue cazzate Infatti Bisogna L'ospito Un secondino Giusto per riuscire a Bello che hanno fatto i soldati Comunque Hanno fatto andare giù le mani Totto Abbiamo un generale della madonna Che dovrebbe riuscire E tu Aumenta la reputazione La relazione in mezzo I miei Qui dovrebbero salire A fine abbiamo 9000 uomini Cioè sono tantissimi Il problema è che Non riusciamo mai a A capitalizzare Su questa cosa qua Perché siamo sempre Sopra the mess Perché sono tutti Dei grandi generali Ma fa anche a gare In steward ship Questo fa a cagare Anche come generale In verità E tieni tua madre indietro Giusto Ci sarebbe anche La cosa di poter Prendere questo Così Un regno Lo voto Me lo tengo In questo senso qua E l'altro Ora sarebbe il secondo Il secondo Il secondo cosa Quello 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 del Buiz qua Che stanno continuando a conquistare Questi qui E questi qui sono Dove che hanno la capitale Là sopra Ok O Smoland Che però Smoland non mi dispiacerebbe Perché almeno Come dire Affondiamo i territori lì E siamo a posto Ah il resto Però Un po' Andito nel culo Ma si ma si Vai vai Dammi i soldi E vattene Non c'è problema Qui stiamo finendo Quello Stiamo finendo Qua abbiamo già finito Qui manca Quello Oppure una bella Raidata Cry Cry Speso Eeeh Ferma tutto Dov'è qua Controllo Tira su Tutti qui Ragazzi Ci andrà A fare una spesa Fantastica Cry Cry Spesa Fantastica 30 monete 20 monete 14 monete Suppongo Guardate Oh Si 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 Andiamo Andiamo Accelera Metti il turbo Questa è l'unica guerra Che vale la pena Combattere Adesso E dopo Guardate Forse Conviene anche Andrà Rays Alla studio Complimenti No Già l'arri Dato l'assunto A meno che non sia Un 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 Ieri Passato io L'ultima puntata L'assunto Ma Si Digli che è Belli E' vanitoso Questo E' Vabbè Bello Dicemogli che è Bello Eccellente Potrei Iniziare a svegliare Altri Oibò Rebarid D'Irlanda E' andato Nel vallo A 74 anni E' morto Di vecchiaia Anche Spesso Anna Horizon Come se la gente Non potesse Morire Di vecchiaia Un uomo Un uomo che Metteva il bene A famiglia Davanti a tutto Ha speso Tutta la sua vita Bla 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 Vediamo cosa farà Suo figlio Il regno Non è esploso Siamo A bolla Abbiamo Questa bellissima Oh Quindi Learning Abbiamo 4 D7 E lui è andato Per il Teologico Non ha minimamente Senso Andrà avanti qua Perché Cioè Va già bene così Cerchiamo di Tenere assieme Più territori Che possiamo Quindi Io direi Questo Che ci dovrebbe Aumentare un po' Il demens Allora Tutto lo sei meritato E tu Vai tu Ovviamente Qui Avremo alcuni Problemi A tenere Incollato Tutto Però adesso Buono Almeno Adesso Possiamo Iniziare A fare qualcosa Di decente Facciamo una festa Dato i soldi Rientreranno Andatemi un secondo Cos'è Shift B Io ho dato Un taglio di cappelli Decente È una barba Decente Come se ne conviene Vabbè Come se ne conviene Qualcuno Vabbè Non è propriamente Un vichigo La delusione Della famiglia Diciamo Allora Invitiamo gli amici Per cercare Di Tenerceli Buoni Allora Vai avanti Ragazza mia Anche se non sei proprio Il mio target Principale Per ferire i miei Vassali A svegliare Eccoci qua Iniziamo Il vino è finito E quindi c'è da spendere soldi Quindi lui si fa prendere male Perché sono gridi Perfetto Partiamo subito Con un po' Di Di attacchi di cuore E una prossima volta Ah il demens Tristemente Anche se io ho aumentato Sì Servono le concubine Assolutamente Subito Ah sì Te lo do Te lo do Immediatamente Il bambino Non ti preoccupare Non mi ricordo più Che stavo per dire Perché sono disabile Però Noi possiamo Facciamo qui Qui Tic 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 Eh siamo a posto Finiamo un attimo qua E poi andiamo Eh ecco Che non Cristo non mi ha aumentato Anche se ho preso Tre punti Lassopra E qui adesso Dove essere tipo Dieci No perché Ah Ah lui stava A sette Quella stat Che ho visto prima Tenendo già conto Della moglie Perfetto Questo qua è un cazzo Di genio ragazzi Perfetto Porca puttana Dai Entra qui Per piacere Porca puttana Vabbè Ok siamo tornati Ok Quindi è andato solo più due Cioè io ti ho dato un titolo Più due No più quaranta Però non si sa per quale motivo Questo anche è mio Ma non lo voglio Quindi andiamo sempre nella lista Anzi Sì mio figlio così Mia figlia Cos'ha Sorelle Ho una sorella Beh potremmo farla sposare Maternalmente con qualcuno Magari non con i suoi cazzo di cugini Con i suoi cugini Facciamo No Devo resistere Non deve succedere C'è questo Janowicz russo Che è anche un buon Guerriero Che mi odia Ma Comunque cercavo qualcuno Qui dare Ho un medico No 8 13 Abbiamo un 13 Signore Abbiamo un 14 E il 14 Vince Signora sorellina Lei È diventata la dottoressa Di casa E qui abbiamo Un guerriero Andrà a cercarli con il lanternino Sti guerrieri Comunque Guerriero unlanded Questo qua Però così Mi riempio di vassalli Vassallini Però sono tutti deboli Però è più gente Da dover sbagliare Invece che una Vabbè Proviamo questa nuova tattica Di splittare In più possibile Così non riescono Non riescono a centralizzare Il potere Allora Comunque abbiamo splittato Oh adesso Sta salendo anche Sta salendo tutto Ecco bene Ho tossito il microfono Cristo Scusate Lui qui Finalmente Come leati Nessuno È finita Amico mio Poteva durare Fino a un tot E quel tot È durato A sufficienza L'Irlanda Tornerà Tutta Sotto Il mio controllo Contro No Sono pur splittato Lui voleva Voleva Ha detto Adesso Adesso lo attacco Immediatamente Sì Va bene Dai Facciamo le gare Che vai in giro A un certo punto Arriverai allo stretto E non potrai più scappare Lo sai Sono fanno conoscere Del red blood Ma sì Ma fai un po' Ah giusto No Studia Learning Presi Tutto vantaggio Loro Perché il nostro È un cretino Ah Abbiamo più soldati Ed è finita così Andiamo alla fortezza Andiamo a prenderci Quello che ci aspetta Abbiamo ben due parti Che ci raidano Vabbè Uno Scommetto che sono i I scozzesi Lì Quelli del regno di Alba Che sono venuti a rompere le palle Pace Cosa succede qua? La strada? No ancora Sta cazzo di strada Ci vuole un mese Per fare questa strada Le strade sono già buone così No va bene Falla Allora Tu quanto hai? Tu hai 18 Tu hai 10 No no Il mio steward lo fa Vai A me serve un'amica Mi sorella Sì ma è giustissimo Un'amica Siamo amici Chiudiamo tutte queste cose qui Che non mi interessa Oh Sono fortunato di avere gente Con meno 100 sotto di me Tra l'altro Tra l'altro Giustamente Perché Siccome la situazione è stabile Io non ci ho pensato Ma in verità Io devo Questo guarda è cristiano No Ok Quindi sto sulle palle di base Questo gli sto sulle palle Solo perché sono cristiano Te non ti sveglio perché sei vecchio Te invece ti sveglio Eccoci qua Perché se è quello più forte È 1500 uomini Sei l'unico che Probabilmente Mi frega qualcosa Spero di fare Allora Road progress Increase by 2 Road quality by 1 S'accordo di Tuyardo? Allora Pecuniori Oversight Ci dà più 2.02 Amount Questo ci dà Oh Più 2% di tasse Vai Soldi Quanta gente sta morendo? Ah Ops Un attimo ragazzi A presto della strada Ah ok Mi si guarda un po' Un cazzone No 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 Va bene Faccio quella sotto Anche se gli fa un po' Girare le palle Tanto comunque Lo sto svegliando Sì Devrei liberare forse qualcuno Nei miei Eccoci qui È morto Giusto Ehm Ufff 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 Hai 800 uomini Quindi sta zitto Tu Cerca di fare un buon lavoro Che non è in mano Che non è in mano Che non è che la pergamena Cerca di comprarti una pergamena Da avere in mano No niente Io rimarrò senza pergamena Fatevo finta di leggere qualcosa qua Cosa sono questi 2000 uomini? Non li ho tirati su Andate a picchiare Andate a picchiare quello là C'è qualcosa qui Che non mi sconfinfera Allora Questo mi dà Good Network Road Che mi piace Per 30 anni Oppura Questo No no Questo Voglio chiudere Questa guerra qua Velocemente Che palla Iniziamo Con C'è qualcosa che ti dà Direttamente più Beh questo ti darà Direttamente più Meritocracy No Va bene quando Cazzo Meritocracy Meritocracy Ti fa avere Un sacco di soldi Dai tuoi Dai vassallivi Questo potrebbe So che ci sto mettendo Tanto a scegliere Ste cose qua No Meritocracy Mi piace Administrator Focus Volete prendere Con la capitale Vi prego Cosa ci sarà mai Avranno dei muri No Sì Pace Finalmente Finalmente L'Irlanda è tutta Verde nostra Siamo tutti Contenti Di questa cosa Ok Adesso bisognerà fare guerra Un po' Ai nostri cugini Qui Quanti soldati Hai Mille e cinque Sei in guerra Con Mercia E tu hai davvero Attaccato Mercia Questa qua Devo fare 250 Di Di situazioni Lì Allora Ok 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 Qui potremmo Darlo a qualcuno Potremmo darlo a Potremmo darlo a Jarl Bengt E lui Tic Tic Qui sopra Chi è che comanda Qui sopra ci starebbe Siamo il regno D'Irlanda Senza avere nessun pezzo D'Irlanda Aspettate Ah che bello C'è stato un bel Contrattempo Quindi oggi Puntata corta Secondo me Puntata corta Sì dai Niente ragazzi La finiamo qui Avendo sistemato L'Irlanda Avendo chiuso Una guerra Purtroppo Oltre le cose Vanno così Però 20 minuti 10 minuti meno Un bel taglio Però Oggi Oggi va così Le prossime volte Vedremo di farlo andare In una maniera Differente Un saluto E vediamo La prossima volta Di iniziare a dichiarare Guerra qui Per prenderci il regno Del Del Gallash